Uno però è un po' peloso, eh? Ma come si divertono! Una vita ai bucket a cavallo! Fissa che il cavallo non è gradito! Qui si cura la forma fisica. Non tanto di personal trainer. Si vocifera e si accade. Dimostrazione di atti marziali come liberati dalla presa alle spalle. Con una tappa mosso di judo! Questa è una tappa! Questa è una tappa! Questa è una tappa! Questa è una tappa! Questa è una tappa!